La faccenda dei rifiuti e della situazione tra Coggesa e Comune dell'Aquila continua a far discutere. A gamba tesa nel dibattito entra Stefania Pezzopane, consigliere comunale del PD, che ha chiesto al presidente Livio Vittorini di convocare la prima commissione per fare chiarezza sul tema. La proroga concessa dal Coggesa scade a metà mese e se non verrà rinnovata la convenzione l'Aquila non potrà più conferire nella discarica di Sulmona. La questione si configura però anche come scontro politico tra il primo cittadino Pierluigi Biondi e il collega di Sulmona Gianfranco Di Piero. La Pezzopane insiste sul fatto che il Comune si è fatto trovare impreparato e Biondi per lei la butta in cacciara anziché trovare una soluzione. Non è riuscita a creare delle alleanze territoriali. Un Comune è abile nella futile ma poi sulle questioni importanti è del tutto impreparato. Che la scadenza della convenzione fosse il 31 dicembre si sapeva da tre anni. Non c'è una soluzione alternativa. Il tentativo di buttarla in cacciara da parte del sindaco non è riuscito. Ora ci vuole una soluzione. Quindi la richiesta di un confronto è per capire come stanno veramente le cose e quale può essere una trattativa utile con il Coggesa mentre ci sembra che si stia andando un po' su una ricerca a vuoto prima su Chieti adesso addirittura nel Lazio. Non è così che ci si comporta.